Grande successo ieri sera ad Alghero per il concerto di Gianna Nannini. Lo spettacolo, durato circa due ore, ha realizzato il tutto esaurito all'anfiteatro di Maria Pia. E non solo, infatti erano tantissime le persone che non riuscendo a trovare il biglietto hanno ascoltato il concerto all'esterno della struttura. La cantante senese, con la sua cosciuta grinta, si è presentata con pantaloni neri e canota bianca, inaugurando lo spettacolo con il pezzo Cattivo, tratto dal suo ultimo album Gianna Best. Successi vecchi e più recenti hanno fatto cantare e ballare la platea, sempre convolta per tutta l'esibizione dalla grande energia dell'artista, che si è mostrata ancora una volta un vero animale da palco.